buongiorno amiche buongiorno amici mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale attiva la campanella perché pubblico un video al giorno così sarei sempre aggiornata aggiornato sui nuovi contenuti oggi voglio rispondere a una richiesta che mi ha fatto un amico e quindi vado a leggere testualmente la sua richiesta e mi dice mi scrive l'amico giuseppe amico si chiama questa persona riporta anche il cognome perché adesso capirete insomma dal testo della sua richiesta ciao marcello complimenti per il video grazie grazie mille giuseppe che dirti era il 2006 ed è stata la mia prima moto quindi parliamo della kawasaki di cui appunto parleremo dopo z 1000 nel 2003 dopo lo scooter 50 direi che per nove lunghi anni mi ha accompagnato dovunque nel 2015 l'ho data via per l'aprilio dorso duro 750 l'anno scorso ho provato a ricercarla dato che è stata venduta a 14 km da casa mia nessuno però sa che fine abbia fatto sarei felice di ricomprarla perché come il primo amore non si non si dimentica mai ti mando un coloroso abbraccio presto un saluto anche da parte mia di a giuseppe insomma caro giuseppe allora oggi quindi lanciamo questo appello lui non mi dice dove dove abita quindi se qualcuno eventualmente sapesse di cosa stiamo parlando si faccia avanti con con giuseppe magari mi può scrivere mi può scrivere in privato sulla sulla mail e poi naturalmente vi metterò in contatto viceversa se giuseppe vuole dirci dove abita lo scriva nei commenti così può facilitare la sua ricerca quindi sta cercando questa moto vediamolo quindi nell'immagine cui ho parlato l'altro giorno però è una moto molto molto bella che è rimasta nel cuore di molte persone ho ricevuto anche proprio dei messaggi a proposito quindi ne riparliamo approfondito un po il discorso per quanto riguarda più che altro il telaio comunque vediamo quindi viene prodotto sostanzialmente a partire dal 2003 fino al 2006 e vuole kawasaki creare una moto con uno stile unico infatti a partire dagli scarichi in acciaio cromato sovrapposti che conferiscono un'estetica sportiva ma anche ricercata ed elegante anche i colori vedete come questo arancione il verde mela che sono caratteristici così brillanti degli anni 70 permettono di riconoscerla immediatamente il motore è arrivato dalla ninja zx 9 r che una moto quindi sostanzialmente sportiva ed è stato rivisto aumentando nella cilindrata ed è un quattro cilindri raffreddato liquido con la distribuzione di albero quattro valvole per cilindro di 953 centimetri cubici e una potenza massima di 127 cavalli 10 mila giri al minuto la coppia 96 newton metro a 8 mila giri al minuto coppia massima naturalmente il telaio quindi che è denominato twin tube alla caratteristica di avere il motore come parte integrante della struttura e proprio per ridurre il peso complessivo che vedremo poi non è poi eccessivo per un mille di cilindrata all'anteriore poi abbiamo che vediamo qua si vede meglio una forcella stelle rovesciati da 41 mm regolabile l'estensione e nel precarico con l'escursione di 120 mm posteriore invece la sospensione affidata a un mono ammortizzatore denominato unitrec regolabile l'estensione del precarico permette un'escursione della ruota di 138 mm freno anteriore a disco naturalmente doppio disco scusate un diametro di 300 mm con pinza 4 pistoncini mentre al singolo al posteriore al diametro di 292 mm cerchi naturalmente da 17 pollici con queste tre belle razze nello stesso tinta della carrozzeria il serbatoio la capacità 18 litri con un peso secco di 198 kg quindi un peso direi più che adeguato vista la categoria del mezzo un prezzo della moto che all'epoca era di 9.990 euro quindi praticamente 10.000 euro quindi mi auguro che con questo appello si riesca in particolare giuseppe riesca a ritrovare la sua moto quindi grazie per l'attenzione mettete un like se vi è piaciuto dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivata la campanella per essere sempre aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre graditi ciao buona serata